Ottant'anni, ma non li dimostra. Per la giostra del Saracino è venuto il tempo di festeggiare. La prima edizione risale al 7 agosto 1931, giorno di San Donato, allora come oggi. Le immagini che osserviamo si riferiscono proprio a quella giornata. Fanti, vessilliferi e tamburini erano presenti in piazza, insieme con loro molte camice nere, a testimoniare il periodo storico nel quale la giostra si corse. La giostra fu voluta dal podestà Pierludovico Occhini, il quale alcuni anni prima aveva espresso il desiderio di dare vita a un evento che si rifacesse al valore della retinità. La prima edizione ebbe un ottimo successo. Il buratto era disposto diversamente da adesso, era di fronte a Palazzo Brizolari e non in prossimità delle logge. Il pubblico era sistemato nei pressi di una recinzione montata a ridosso della lizza. Vinse Portaburgi, in realtà il nome medievale di Porta Santo Spirito, il quartiere anzi il rione che poi sarà soppresso. Tabellone diverso da quelli di oggi e punteggi molto bassi al contrario di adesso. Dall'anno seguente la sistemazione della piazza prese la fisionomia attuale, con la lizza disposta in diagonale e il buratto nella parte alta della piazza. Quello che è bello evidenziare è che la giostra, nonostante le polemiche e le difficoltà, è rimasta nel cuore degli aretini e soprattutto dagli anni Ottanta ha iniziato ad avere una rilevanza anche nazionale. Insomma, un compleanno in piena regola, con la signora giostra che si è rifatta il trucco e ha conservato intanto il proprio fascino. Grazie a tutti!